Per sostenibilità possono essere intese tante cose e anche all'interno di una banca come Morgan Stanley. Una cosa è cosa fa Morgan Stanley, una cosa è quello che fanno i gestori di Morgan Stanley Investment Management in termini di sostenibilità. Quello che noi vogliamo sottolineare nel corso di questa edizione del Salone del Risparmio è come si può essere anche abbastanza peculiari nel declinare il tema della sostenibilità. Ad esempio alcuni team di investimento delle nostre strategie più conosciute e più note hanno sempre detto una cosa, benissimo attenzione ai criteri ISG, quindi all'attenzione che le aziende in cui investiamo hanno per quanto riguarda i temi dell'ambiente, i temi social e di buon governo. Però noi non ci affidiamo a un rating fatto da una società terza perché quello significherebbe andare in outsourcing la stock selection. Ma noi come gestori attivi siamo pagati per fare stock selection e quindi siamo noi a valutare le aziende negli incontri con il management, con i CEO, con gli amministratori delegati, a dargli un voto per quanto riguarda l'attenzione ai temi di environment, di social e di governance. Quindi sostanzialmente è una ricerca proprietaria che ci facciamo in casa. Ecco, in questo secondo me è un modus operanti che ci distingue un po' dal resto dei nostri competitor. Grazie. 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 Grazie.